nel mondo del diamante spesso uno più uno non fa due perché sembrerebbe una provocazione ma in realtà non lo è è un dato di fatto vi faccio un esempio per rendervi la cosa più semplice e più chiara due diamanti da un carato di un colore di una purezza if non costeranno mai come un diamante da due carati con purezza if e colore di ecco perché spiegato nel mondo del diamante uno più uno non fa due vi faccio un altro esempio due diamanti da 0 50 da mezzo carato di color di color e purezza if non costeranno mai come un diamante da un carato colore di purezza if perché hanno delle rivalutazioni rapporte estremamente differenti ecco la piccola battuta dell'uno più uno non fa due appunto per spiegare perché molti clienti mi chiedono perché se prendiamo due petri da un carato costano magari molto meno di una petra da un carato se comunque la caratura del diamante è sempre un carato la valutazione del diamante sia maggiore è il carato maggiore il peso del diamante maggiore rapaport incide sul prezzo al carato delle pietre